Si è giocata ieri l'ottava giornata di campionato, gol e spettacolo nel girone C di Lega Pro a partire dall'anticipo di sabato sera tra Paganese e Teramo dove gli abruzzesi fanno il colpaccio al novantesimo con Ilari che mette a segno una doppietta che vale tre punti e il secondo posto dei bianconeri. La Ternana dà un'altra prova di forza, questa volta con un pocherissimo al Catanzaro, Partipilo apre le danze e Carlini pareggia ma poi è show degli uomini di Lucarelli che con Falletti, Palumbo, Raicevic e Ferrante chiudono i conti. 4-4, Pirotecnico tra Potenza e Cavese con i Lucani che salutano Mister Somma, al suo posto c'è il ritorno di Eziolino Capuano. Cavese avanti con Russotto, il Potenza la ribalta e si porta sul 3-1 ma i campani rimontano e si portano clamorosamente sul 3-4 nel finale Baclet a pareggiare per i padroni di casa ma non basta per salvare la panchina di Somma. Nel sentitissimo derby tra Foggia e Bari c'è la vera sorpresa di giornata con i rossoneri che battono i galletti grazie ad un rigore al 41esimo di Curcio. K.O. inaspettato per la formazione di Auteri che si porta a meno 4 dalla Ternana. È show anche al pinto di Caserta nel derby campano dove la Turris passa con Giannone, pareggio di Gigi Castaldo per i falchetti ma ancora Corallini avanti con Romano. Pareggia e Zillo ma dilaga la Turris con Franco e Pandolfi. Castaldo sbaglia anche un calcio di rigore. Vera rivelazione di questo avvio di stagione è la formazione di Mr. Fabiano. Nell'altro derby pugliese il Monopoli perde in casa con la Virtus Franca Villa nonostante il vantaggio di Zambataro. Sparandeo, Perez e un autogol di Bastrini firmano la rimonta della Virtus. Vince anche la Juve Stabia contro il Bisceglie un gol di Fantaccia all'85esimo regala 3 punti alle Vespe di Padalino.